Ciao a tutti, sono Claudia, istruttrice presso Sport Club 12 di Ispra. Finalmente le scuole sono finite e tutti i bambini sono a casa in vacanza, quindi volevo proporvi il nostro magnifico dodicino Holiday Sport Club. Come ben sapete è aperto a tutti i bambini dai 4 anni in su, dalla mattina alla sera, si fanno un sacco di attività. Volevo enfatizzare il fatto che facciamo un sacco di cose all'aperto, come la vela, il cavallo e le gite in bicicletta. I figli, i vostri bambini potranno stare all'aria aperta e non sempre con questi telefonini malefici e impareranno ad amare la zona meravigliosa nella quale abitiamo. Mi raccomando affrettatevi perché siamo molto richiesti, i posti sono limitati e così si divertiranno per tutta l'estate. Vi aspetto, ciao ciao! Grazie a tutti!